Infortunio sul lavoro. Questa mattina a Moriago, un operaio di 21 anni, dipendente della Edil Scavi di Pieve di Soligo, è rimasto ferito intorno alle 11.30 mentre lavorava in via Calmentera. L'infortunio è avvenuto mentre utilizzava un elettroutensile. Subito a soccorso dai colleghi è stato trasportato con l'elissoccorso del suo e malcafoncello di Treviso, mentre sul posto arrivavano carabinieri e ispettori dello Spisal. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Sgominata dai carabinieri di Pordenone, una banda specializzata in furti in aziende, negozi ed abitazioni. Una ventina i colpi contestati tra le province di Treviso, Pordenone e Venezia. In mattinata i carabinieri hanno eseguito sei arresti. Il sodalizio criminale era composto da nove romeni e un albanese. Sequestrati nel corso delle indagini, cinque autoveicoli e tre autocarri oggetto di furto appena compiuto. Attrezzature edile e meccanica varia, nonché 400 chili d'argento, per un valore complessivo di circa 400 mila euro. Ladri la scorsa notte alla gelateria Feltrin di Piazza Rigo, a Spresiano. I malviventi sono entrati in azione all'1,30 forzando la vetrata. Una volta all'interno hanno arraffato i 600 euro in contanti che c'erano in cassa e sono scappati, il tutto in pochi istanti. Per i titolari, oltre all'ammanco, anche danni per 2 mila euro da riparare. Sul caso indagano i carabinieri. Rogo all'azienda di trattamento rifiuti ceccato. Cinque medici di Castelfranco hanno dato avvio ad una raccolta fondi per far eseguire nuove analisi sugli inquinanti che si sono sprigionati durante il furioso incendio che lo scorso 26 settembre ha pesantemente danneggiato l'azienda. L'iniziativa parte dalle forti perplessità rimaste tra i cittadini, a cui le analisi ARPAV e le rassicurazioni dell'ULS sembrano non bastare. Da qui la raccolta di fondi per far eseguire ulteriori accertamenti.